Continua la telenovela sull'annosa questione legata agli impianti di risalita dei Pratitivo e Pratoselva. In attesa che qualcosa si chiarisca rispetto alla stagione invernale annunciata ma ancora non autorizzata e con le procedure giudiziarie ancora in corso tra penale e civile, è arrivato il colpo di scena della provincia di Teramo, maggior azionista della Gran Sasso Teramano, società in liquidazione proprietaria degli impianti di risalita, che ha chiesto la revoca del commissario liquidatore Gabriele Di Natale. Ma stiamo procedendo per un percorso che è oggettivamente trovare scontro in un non buon esito della liquidazione della GST. I liquidatori nel tempo erano stati chiamati a liquidare questa società, quindi a vendere i beni. Ad oggi anziché liquidare la società i debiti sono cresciuti, sono arrivati quasi a erodere tutto il capitale se non a superarlo. Quindi bisogna cambiare passo e cercare di concludere questa vicenda per dare continuità alla gestione e al rilancio del territorio montano dei preti di tipo. Ovviamente la questione che in questo momento interessa agli amanti della montagna teramana è quella di sapere cosa accadrà in vista della stagione invernale, neve permettendo. In questa stagione invernale continuerà la gestione come disposto dal giudice, quindi non ci saranno novità. Stiamo cercando di fare il possibile per evitare che ci possano essere intoppi da un punto di vista procedurale per quello che concerne la riapertura. Ma non è solo questo il nostro obiettivo, l'obiettivo è quello di far arrivare dei finanziamenti importanti a parte di tipo. Stiamo lavorando in maniera dura per cercare di realizzare e portare a termine il progetto Montagna Illuminata che vedrà la realizzazione di una zip line. E stiamo completando, quindi cercando le somme per completare la pavimentazione della strada che dal bivio della statale porta ai preti di tipo. Questo sia per dare una migliore risposta in termini di offerta, sia per consentire al meglio la riuscita della tappa del Giro d'Italia.